Aggressione e rapina ai danni di un tassista è successo martedì pomeriggio a Milano quando due uomini italiani di 39 e 27 anni con precedenti sono stati arrestati dalla polizia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiali e lesioni aggravate al tassista. La vicenda inizia intorno alle 18 in corso Garibaldi quando i due uomini insieme ad un terzo amico che poi è riuscito a fuggire salgono a bordo di un taxi tutti e tre visibilmente ubriachi ma è durante il tragitto che il gruppetto tirando giù il finestrino dell'auto inizia ad insultare e molestare i passanti per poi colpire con calci e pugni gli interni dell'auto e spaccare il plexiglass che separa i sedili davanti. Il tassista allora decide di fermarsi in largo la foppa e chiede ai passeggeri di scendere ma il gruppo come reazione inizia ad insultare il conducente prendendolo anche a pugni e dopo averlo fatto cadere per terra inizia a scagliarsi anche contro la carrozzeria della vettura. I passanti spaventati chiamano allora il 112 sul posto all'arrivo degli agenti il terzo uomo era già riuscito a fuggire mentre il 39enne e il 27enne sono stati arrestati dalla polizia.